È stato detto e scritto che nella vita di ogni siciliano c'è un treno perduto, un treno che lo porta lontano o che lo fa tornare a casa, un treno che giornalmente lo porta a scuola e speriamo Dio, un signoruzzo, un giorno lo possa portare al lavoro, ma soprattutto nella vita di ognuno di noi ci sarà una stazione, Villa Rosa, col suo treno museo e delle case museo di Villa Priolo che ci permetteranno di scoprire e amare questa nostra terra, sì, la Sicilia, questa terra quotidianamente tanto martoriata però baciata da Dio. Amici, benvenuti a Villa Rosa. Mi chiamo Primo David, sono un ex ferroviere ma soprattutto sogno siciliano. Anch'io nel lontano 1971 partì per la Germania, poi ci fu il mio ingresso nelle ferrovie tedesche, e dopo cinque anni sono entrato nelle ferrovie italiane a Bologna. Sono miracolato dalla bomba di Bologna, quel ferroviere che chiede una bombola di ossigeno quando arrivo all'ambulanza, quello sono io, perché la mia vita il 2 agosto ha dato tanto ed è cambiata, perché vedere 85 morti e 280 feriti non è stato facile. Però nella vita quando uno ha una marcia in più, la mia marcia era quella di parlare il tedesco come l'italiano, mi ha aiutato tantissimo ad aiutare il prossimo. E questo l'ho fatto innanzitutto come italiano e poi come ferroviere. Ho lavorato 44 anni, 8 mesi e 20 giorni in questa meravigliosa azienda delle ferrovie italiane. Servo in me un grande ricordo, ma soprattutto l'orgoglio di aver permesso di aver realizzato questo treno museo pieno di cimeli storici. Come vedete abbiamo gli emigranti che tornano in treno da Milano Centrale con la Freccia del Sud. Repubblica che si è occupato di me 30 anni fa, dal binario morto è nato il museo. Repubblica. Questo è Frankfurt der Gemeine Zeitung. Questo è De Spiegel. A Villa Priolo addirittura il New York Times ci ha dedicato due pagine. Queste sono tessere ferroviarie. Sono biglietti che mettevamo come biglietteria a Villa Rosa. Villa Rosa era una stazione abilitata al servizio internazionale. Auto al seguito, vagone letto, tessere di autorizzazione. Avevamo un contingente di posti a sedere sui treni per Roma Termine e Milano Centrale. Vedete questo è il biglietto di visita della stazione di Villa Rosa. Questa è una rotaia del 1881 da Bocum perché abbiamo portato alla luce la nostra storia. Nessun popolo potrà mai guardare al proprio futuro se non si rispecchia nel proprio passato. 2-1. Venuta. Perché per molti siciliani la Sicilia è un'isola sconosciuta. Vi aspettiamo a Villa Rosa.